ben trovati in questa nuova video analisi come vedete non lo dico per vantarmi però oggettivamente ho toccato tutti i target previsti questo era il primo previsto il 5 febbraio e addirittura siamo arrivati con un balzo anche dal mio punto di vista inaspettato a 10.430 in pochissimo pochissimo tempo ovviamente questo tipo di operatività è molto difficile da gestire quando il trend è in corsa però a vedere tutte quelle che sono le indicazioni da parte di media mobili e dei prezzi questo trend non sembra ancora finito perciò io mantengo questo terzo target come vi dissi l'altro giorno ancora in gioco ovviamente facciamo molta attenzione a diventare al mercato su questi picchi di bitcoin perché potremmo scottarci quindi se avete già fatto un'attenta disamina della vostra gestione del rischio e su come operare su bitcoin senza dubbio secondo me resta ancora molto valido il target 10.000 e 6 10.000 e 7 questo potrebbe essere potrebbe essere l'area di prezzo su cui bitcoin arriverà prossimamente ovviamente per quanto riguarda il tempo non so quanto ci vorrà ma sicuramente rientra ancora in gioco quel tipo di resistenza che ho indicato poche poche analisi fa per quello che riguarda intanto ma di per le cripto io vi ringrazio per la grande partecipazione e vi rinnovo se ancora non l'aveste fatto l'invito ad iscrivervi ma andiamoci a vedere un'altra criptovaluta sulla quale ho messo gli occhi l'altro ieri comunque pochi giorni fa e oggettivamente sta volando io avevo previsto questo target che è stato prontamente toccato in pochissime pochissime a questo punto pochissime ore io credevo ci arrivasse entro il 14 invece addirittura anticipato i tempi rompendo anche questa resistenza e si proietta quindi ad arrivare in quest'altra area come vedete io l'ho messa defiata verso destra ma a questo punto la potrei anche leggermente spostare verso l'interno come anche quest'altra la vicino e la mantengo ok la mantengo più attinente a quello che è il valore attuale dei dirum ragazzi vi ripeto come al solito state molto attenti ad entrare su queste candele grosse perché non è facile indovinare il timing d'ingresso se non avete gli strumenti adatti io quindi vi consiglio di stare molto attenti di fare attenzione queste mie analisi le sviluppo per darvi modo di capire la direzione del prezzo ma su tutto il resto dovete essere bravi se non avete delle competenze sarà importante è un consiglio che vi do approfondirle io farò sempre più video anche per permettervi di studiare di conoscere gli strumenti adatti per una buona analisi e per un ottimale ingresso al mercato per il futuro sto organizzando anche dei corsi personalizzati per quello che riguarda la formazione sulle conformazioni appunto di prezzi di candele e di quant'altro serva per conoscere un'approfondita analisi sulle criptovalute ragazzi come promesso ad uno di voi voglio farvi l'analisi su due criptovalute la prima è monero quindi xmr ho già settato i miei vari target allora questo è stato toccato ieri proprio oggi addirittura ripartito questa linea rosa l'ho indicata come possibile resistenza di intervallo dalla quale poi il prezzo potrebbe ripartire e questo ve lo faccio in diretta per stare al passo con voi dalla quale potrebbe ripartire e a questo punto avvicinò un pochino i rettangoli perché qui sembra che in questi giorni le cripto siano impazzite e vanno su come delle cavallette matte allora per quello che riguarda monero ovviamente abbiamo volumi molto importanti e abbiamo eccoci qua voglio farvi vedere per bene e abbiamo ovviamente questo primo target che è intorno area 96 97 dollari il secondo target abbastanza ambizioso lo fissiamo qua intorno ai 106 107 dollari come vedete sono sempre delle analisi dalle quali partire per conoscere al meglio e per capire le eventuali dinamiche delle criptovalute non possiamo ovviamente trascurare una cosa la possibilità che ci sia un ritracciamento dei prezzi quindi una correzione è sempre diciamo così da non sottovalutare perciò è fondamentale capire dove potrebbe andare a toccare il prezzo e io suggerisco un'area molto toccata ovvero aspettate che cambia lo strumento bisogna fare una linea più o meno in questa zona qui questo potrebbe essere il primo punto su cui potrebbe posarsi etilium da dove si trova ora parliamo di una correzione molto lieve oppure potrebbe potrebbe addirittura sporcare un po di più e scendere fino a questo punto ma io onestamente non credo che avverrà vista la forza e visti i volumi sulle candele verdi quindi sono più diciamo sì più d'accordo con il trend e più d'accordo con il fatto che probabilmente 96 dollari sono un un arrivo assolutamente fattibile per quello che riguarda xmr per gli amici monero andiamoci a vedere l'altra cripto che ho analizzato apposta per questo nostro amico che c'è il link ovvero il link come simbolo di cripto allora io ieri sera l'ho fatta giusto per capire un po come fosse l'andamento di riserva si trova più o meno a questo punto a 384 era una candela a un certo punto quasi di quasi un hammer si stava formando e invece ha chiuso a 402 quella di oggi era a tutti gli effetti fino più o meno alle 10 e mezza una candela di indecisione era una dose proprio pura 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 invece l'indecisione si è tramutata in 4 e 14 avevo messo un alert a 409 io non pensavo che ci arrivasse con mezz'ora dalla mia analisi delle 11 e invece c'è subito arrivata ed eccoci qua a 4 e 12 4 e 14 primo target come vedete l'ho indicato nella mia prima analisi fatta appunto stanotte a questo punto ed era intorno quest'area di prezzo qui che a me piace molto quindi fra i 4 e 20 e i 4 e 27 qua andiamo a toccare i massimi recentemente toccati a 4 e 67 e potrebbe essere questa la seconda zona da tenere in considerazione io lascio sempre molto spazio sulla destra perché immagino che ci sia un movimento un po' più tra virgolette regolare e a questo punto con candele così importanti mi viene più difficile un'analisi tecnica tradizionale in quanto le criptovalute sembrano veramente essere impazzite voglio mostrarvi impicciolando un attimo qui quello che era il passato quello che è stato il passato c'è il link comunque una cripto che si sta muovendo se vediamo queste linee voglio proprio marcarvele per farvi avere un'idea più chiara che si muove più o meno su e giù su questa zona qui ha trovato un'importante resistenza prima a questo punto ma dove il trend ancora era positivo quindi io indico questa come zona reale di resistenza il supporto è rimasto questo e adesso sembra non esserci più una resistenza quindi oggettivamente diventa giusto prevedere che l'andamento di channel link possa essere più che positivo questa me la salvo e chiudo la video analisi con una cripto che io amo particolarmente che però anzi sulla quale non ho ancora messo un centesimo e ho sbagliato perché le analisi erano corrette come vedete questa analisi fatta pochi giorni fa si è appoggiata con questa pin bar molto importante intorno ad area 54 dalla quale poi è ripartita e oggi stiamo parlando di una di una di un litecoin quindi ltc molto molto lanciato siamo a 79 e 73 pensando che soltanto ieri stava a 76 quindi parliamo di percentuali che in un giorno non sono assolutamente da sotto un 4% con un giorno devo dire che faceva golo un po' a tutti io oggettivamente ho sbagliato a non diventare al mercato ci troviamo adesso prossimo di una resistenza che comunque è molto debole io dico e credo che questa mia vecchia resistenza come target è ancora in grado di poter dire la sua e voglio farci un bel freccione ad indicare che potrebbe essere proprio questo qua lo scoglio sul quale litecoin si schianterà o magari oltre il quale andrà per poi dirigersi in zona 111 dollari ragazzi questo è quello che riguarda le mie analisi per oggi spero vi siano piaciute e vi ringrazio per essere così tanti ormai a partecipare alle mie analisi e mi auguro che vi piaccia sempre di più e vi siano realmente utili per qualsiasi informazione o se volete che io tratti una criptovaluta di vostro credimento basterà scriverlo nei commenti sotto buon trading sulle criptovalute e ci vediamo presto su malatiperlecrypto.com e sulla pagina malatiperlecrypto ciao a tutti da Fabrizio Ferri il vostro analista finanziario